Carpentieri e saldatori cercasi, ma trovarli è un'impresa tutt'altro che facile, data la scarsa voglia di lavorare dei giovani, ma anche un mondo del lavoro poco creativo. A sostenerlo è stato niente meno che Giuseppe Bono, amministratore e delegato di Fincantieri, alla conferenza organizzativa della Cisla a Roma. Nel suo intervento è rimarcato, nei prossimi 2-3 anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori, ma non so dove andargli a trovare. Abbiamo lavoro per 10 anni, cresciamo a un ritmo del 10%, ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare. E parlando dell'esperienza diretta della Fincantieri, ha proseguito. Abbiamo dei cantieri in Romania e prendiamo i lavoratori dal Vietnam, ma anche lì, prima o poi, finiranno. Da noi, un lavoratore medio prende 1.600 euro al mese, ma c'è chi sia contenta di fare consegne come rider a 500-600 euro. Il manager ha poi aggiunto, sento parlare tanto di lavoro, di crescita, di infrastrutture, di porti e autostrade. Io penso che tra un po' avremo più università che laureati, più porti che navi, più aeroporti che passeggeri. Questi sono gli sprechi del Paese che non sa darsi una visione completa di quello che deve fare. Vogliamo tutto e vogliamo che lo facciano gli altri. Dichiarazioni, quelle di Bono, a cui ha risposto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Siamo pronti con l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive a dare supporto a Fincantieri, nel formare le maestranze di cui ha bisogno. Le nuove politiche per il lavoro che stiamo costruendo andranno proprio nella direzione di colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro. Grazie a tutti.